Con la gravissima accusa di violenza sessuale in danno di minore, gli agenti del commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un uomo di Etripalda domiciliato nel comune Altirpino. Al 42enne che si trova agli arresti domiciliari si è giunti al termine di una lunga e delicata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino nella persona del dottor Luigi Iglio. Nei confronti dell'uomo sottoposto agli arresti domiciliari sono emersi elementi gravi ed inconfutabili di colpevolezza perché in più occasioni avrebbe messo in atto il medesimo disegno criminoso. L'uomo attraverso violenza e minacce avrebbe indotto il minore a subire atti sessuali.